Quindi non ha mai lavorato sulla diffusione del culto, qui adesso sono qui da 8 anni. Padre ma nella provincia di Risenore, oltre a non sapere questo, molti non sanno della Scala Santa. Sì, no, esatto, è vero lì ci abbiamo visto. È vero, la Scala Santa è vero lì. Gli stessi privilegi della Scala Santa di Roma, la Basilica di Santa Salome. C'è la Scala Santa è vero lì. Ah, è bello. Non si riesce con questo a fare qui, non si riesce a farlo fare. Eh, ma lo devono mettere qui. Ah, ecco, bravo, oggi ti raccordi. Ma, Mario, bevi a poveriggio, stai qui. Dando poveriggio perché ieri sono stati andati a vento.